Ciao, benvenuto ad un nuovo audio di Magnetismo Personale. Oggi vedremo come iniziare una conversazione su Tinder con una ragazza. Se hai appena fatto un match con una ragazza e vuoi essere sicuro di non sbagliare ad evitare che lei non risponda ai messaggi, mettiti comodo, questo è l'audio che stavi cercando. Vedremo infatti qual è il miglior metodo per iniziare una conversazione su Tinder con una ragazza facendo in modo di catturare sin da subito la sua attenzione e generare interesse nei nostri confronti. Il saper catturare l'attenzione e generare interesse è un punto cardine nella seduzione tramite messaggi sulla quale ogni uomo dovrebbe lavorare. Viviamo infatti nell'epoca della distrazione e delle banalità. Ti basta sapere che ogni giorno una donna riceve decine e decine di messaggi da uomini diversi e tutti questi messaggi sono praticamente uguali tra loro. Quindi non solo una donna è costantemente distratta da mille cose, ma riceve per di più anche messaggi tutti uguali tra loro, quindi banali. Proprio per questo motivo che ci sono tanti uomini frustrati dalla propria incapacità di conversare con una donna tramite messaggi e tu potresti essere uno di questi. Se ti riconosci, tranquillo, anche io ci sono passato. Io odiavo letteralmente ricevere puntualmente porte in faccia dalle donne che non mi rispondevano, ignoravano qualche azione che facevo nei loro confronti o rifiutavano le mie richieste di vederci. Probabilmente questo è quello che tu stai vivendo in questo momento, dato che conquistare una donna tramite messaggi è diventato più difficile, ma allo stesso tempo più importante. Al giorno d'oggi, che ti piaccia o meno, saper sedurre tramite messaggi è fondamentale. Ognuno di noi, ad ogni ora del giorno, ha sempre il cellulare tra le mani. Le conversazioni sono sempre più digitali e le donne preferiscono sempre di più conoscere prima un uomo tramite messaggi ed uscirci solamente nel caso in cui quell'uomo è stato capace di generare interesse. Proprio per questo motivo, prima di procedere nello scoprire qual è il miglior metodo per iniziare una conversazione su Tinder con una ragazza, ti consiglio di scaricare il mio corso completamente gratuito sulla seduzione tramite messaggi, il metodo collaudato per sedurre qualsiasi donna tramite messaggi e trasformare il tuo cellulare in una macchina genera appuntamenti. Scopri l'esatto metodo che mi ha permesso di far infatuare qualsiasi donna sconosciuta, a comando, con dei semplici messaggi. Prima di andare avanti, ti ricordo che se ci stai ascoltando da YouTube, puoi iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato su tutti i nostri nuovi contenuti, oppure di seguire i nostri vari profili di riproduzione streaming, come iTunes, Spotify o altri. Ma concentriamoci su come iniziare una conversazione su Tinder con una ragazza. E c'è un errore che la stragrande maggioranza degli uomini commette. Quando si tratta di iniziare una conversazione su Tinder, la stragrande maggioranza degli uomini commette un errore madornale. E questo errore è, ahimè, estremamente diffuso. Circa 19 uomini su 20, nelle mie consulenze, commettono questo errore. Ed è molto probabile, anzi, ne sono quasi certo, che anche tu stai commettendo questo errore. L'errore principale che un uomo commette quando avvia una conversazione con una ragazza è quello di iniziare la conversazione con banalità. Molto spesso non ci si rende nemmeno conto di questo errore, ma se anche tu lo stai facendo, vai a bruciarti subito le carte più importanti. La prima impressione che fai a una donna è molto importante. Se quindi le tue conversazioni sono solite iniziare con una di queste frasi che ti dirò di seguito, allora vuol dire che sei decisamente fuori strada se il tuo scopo è imparare a sedurre una donna tramite messaggi. Le frasi più utilizzate per iniziare una conversazione sono «Ciao, piacere» con il tuo nome. Complimenti, sei bellissima. Ehi, come va? Ti ho già visto in giro o sbaglio? Sei di… comune a caso? Una donna come te dovrebbe essere piena di corteggiatori. E altri frasi random viste e riviste. Sai quanti messaggi di questo tipo riceve una donna ogni singolo giorno? Davvero tanti. La probabilità che una donna legga il tuo messaggio senza risponderti è molto alta. Questo perché tu sei semplicemente uno dei tanti. Così come tu hai scritto «Ciao, piacere» col tuo nome, esattamente un altro uomo ha fatto lo stesso, così come un altro, un altro e via dicendo. Tra i vari, lei preferisce non rispondere proprio a nessuno. Se proprio lo fa, ti sei già comunque etichettato come un uomo mediamente banale, e quindi la tua strada verso la generazione dell'interesse parte in salita. Ecco perché è importante iniziare una conversazione con una ragazza correttamente, proprio per rendere il resto della conversazione in discesa. Anche il solo fatto di chiedere di uscire ad una donna tramite messaggi deve essere come la naturale evoluzione di una conversazione e non un ostacolo da superare per te che le chiedi di uscire e per lei che deve accettare o meno l'invito. Abbiamo visto quindi come non va iniziata una conversazione con una ragazza su Tinder. Vediamo adesso come bisogna invece iniziare una conversazione correttamente. Come abbiamo visto in diverse occasioni, e in particolare nel mio corso gratuito sulla seduzione tramite messaggi che ti consiglio di recuperare sul nostro blog magnetismopersonale.com, la chiave è l'originalità. Essere originali nello scrivere a una donna è come una ventata d'aria fresca per chi sta dall'altra parte. Ho più volte fatto l'esempio della mucca viola in diversi articoli e audio nel mio blog. Immagina di avere davanti un branco di mucche, tutte bianche. Per quanto siano leggermente diverse tra loro, è difficile per te distinguere una mucca in particolare. Pensa invece se nel branco ci fosse una mucca viola. Sicuramente non puoi fare a meno di notarla, ma soprattutto non puoi fare a meno di distinguerla rispetto alla massa di tutte le altre mucche che sono presenti nel branco. Così funziona anche nella seduzione tramite messaggi. Nel momento in cui decine di ragazzi scrivono le stesse cose ad una donna, lei raramente riesce a distinguere realmente uno dall'altro. Una conversazione vale l'altra per lei. Se però un uomo tra questi si comporta diversamente, proprio come la mucca viola tra chi è il branco di mucche bianche, immediatamente l'attenzione della donna ricade su quell'uomo che si comporta diversamente. Ed è proprio per questo motivo che devi evitare di scrivere i soliti messaggi che qualunque altro uomo utilizza per avviare una conversazione, quanto piuttosto devi farlo in modo originale. Il miglior modo per avviare una conversazione in modo originale è trovare l'appiglio. Ma come si fa a trovare l'appiglio per iniziare una conversazione su Tinder? Se proprio vogliamo attirare l'attenzione di una donna e farlo in modo che lei ci risponda sicuramente, abbiamo quindi visto che bisogna trovare l'appiglio. L'appiglio, come dice anche il nome, è qualcosa che ci permette di avviare la conversazione in modo laterale. Ti faccio un esempio per aiutarti a comprendere cosa intendo esattamente. Immagina che la ragazza in questione ha scritto nella sua biografia di Tinder che è un avvocato. Potresti iniziare la conversazione con lei con la domanda Avvocato civile o penalista? E da lì iniziare a proseguire in profondità la conversazione nel suo lavoro. Sai perché questo approccio funziona? Perché così facendo ti stai dimostrando di essere interessato nel sapere genuinamente della sua vita, anche se per te è ancora una sconosciuta. Mentre tutti gli altri uomini lì fuori ci provano subito in modo schietto, Tu stai dimostrando di essere disinteressato per il momento a lei, piuttosto sei interessato al suo lavoro. Con questo approccio si mette anche in moto un meccanismo psicologico tipico delle donne, che è quello di mettersi in mostra al fine di dimostrare appunto che lei è potenzialmente un'ottima scelta per te, proprio come stai facendo anche tu in questo momento. Riascolta attentamente quello che ti ho appena detto. Questo è un passaggio fondamentale e creare queste condizioni ti permette di avere il coltello dalla parte del manico durante una conoscenza, sia essa su Tinder o da qualsiasi altra parte. Facciamo alcuni esempi di appiglio da utilizzare. Perché può capitare che alcune donne non hanno una bio oppure non hanno foto così interessanti. Mettiamo caso che una ragazza indossa un vestito e tu riconosci che quel vestito è di Zara. Potresti avviare la conversazione in modo simpatico giocando proprio su quel vestito. Ad esempio, qualche anno fa, mentre facevo shopping da Zara, notai una ragazza che stava acquistando un vestito che era impossibile non notare. Vedi lo stesso vestito nella foto di una ragazza su Tinder e iniziai la conversazione con una frase del tipo, ecco chi era la ragazza davanti a me da Zara che acquistava quel completo giallo. Dal nulla, con questa ragazza, ho creato un appiglio per una conversazione che poi è proseguita. Facciamo un altro esempio. In quanto un appiglio può essere davvero qualsiasi cosa, bisogna solamente essere bravi a utilizzare un po' di fantasia. Una delle mie ultime conversazioni su Tinder è iniziata proprio con un mio commento su Pisa. Lo so, adesso ti stai chiedendo cosa possa centrare mai Pisa. Semplicemente, fatto reale, non sono mai stato a Pisa. Questa ragazza con la quale ho fatto il match studiava alla prestigiosa Università di Pisa. La mia conversazione, non avendo altri appigli, iniziò con, dato che non sono mai stato a Pisa, finalmente ho trovato qualcuno che mi porti in giro a scoprire posti segreti che i turisti non sanno. Boom, conversazione avviata, la porto su Instagram e poi finiamo per vederci qualche mese dopo quando ero di passaggio a Pisa nel mio rientro a Benevento da Milano. Diciamo non proprio di passaggio, è più corretto dire che mi allungai di qualche centinaio di chilometri appositamente per incontrare questa ragazza che era anche piuttosto carina. Quindi arriviamo alle conclusioni su come iniziare una conversazione su Tinder. Abbiamo visto che la chiave per iniziare una conversazione su Tinder prevede due punti essenziali che qualunque uomo dovrebbe tenere a mente. Il primo è non essere banale così come qualsiasi altro uomo che inizia la conversazione con ciao. Al contrario, è ben essere interessanti creando un appiglio che aizzi istantaneamente l'attenzione. Abbiamo visto quindi quali sono le cose da evitare e alcuni esempi su come creare conversazioni interessanti dal nulla. Tuttavia, tutto questo non basta. Non basta semplicemente perché iniziare una conversazione è solamente il primo step che ti permette poi di portare una donna fuori. In sostanza, bisogna comunque essere capaci di continuare una conversazione e fare in modo di mantenere questa sua attenzione nei nostri confronti e generare quindi interesse. Proprio per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, ti consiglio di accedere subito al mio corso gratuito su come sedurre una donna tramite messaggi. Il metodo è collaudato per sedurre qualsiasi donna tramite messaggi e trasformare il tuo cellulare in una macchina genera appuntamenti. Scopri l'esatto metodo che mi ha portato a far infatuare qualsiasi donna sconosciuta a comando con dei semplici messaggi. Puoi trovare questo e altri articoli sul nostro blog e se vuoi, nelle nostre risorse premium, puoi trovare molto altro che può dare una svolta alle tue relazioni. Basta andare su magnetismopersonale.com slash risorse oppure direttamente dal nostro sito magnetismopersonale.com cliccare sul pulsante rosso Risorse. Se questo audio ti è piaciuto e ci stai ascoltando da YouTube, iscriviti al nostro canale per restare sempre aggiornato sui nostri nuovi contenuti. Se invece ci stai ascoltando da un servizio di streaming audio come iTunes, Spotify o altri, segui il nostro profilo per poter ascoltare anche altri contenuti interessanti. Per oggi è tutto, ti do appuntamento al prossimo audio.